Penso di Suezbrook che sia un giocatore fenomenale, sia quasi uno scherzo alla natura per la potenza che sprigiona, per il modo che ha di giocare, anzi non quasi, sicuramente ha i limiti, ogni azione ha i limiti della fisica perché gli ho visto fare cose che a nessun giocatore mai ho visto fare, né dal vivo né in televisione. È ovvio che è un giocatore molto accentratore, ha bisogno di avere la palla in mano tantissimo, di essere lui il leader nel bene e nel male della squadra, però insomma se ci mettiamo a criticare anche Westbrook diciamo che siamo un po' alla pazzia perché il giocatore sta facendo numeri straordinari, è veramente un piacere da guardare e poi ovviamente c'è anche lui i suoi difetti, sbaglia anche lui, questo non c'è dubbio, ma a me fa impazzire vederlo. Grazie.